Inizia 300, 5 destra, in non tagliare 3 sinistra, stringe in 4 destra. Buona fortuna! Ok ragazzi, siamo su 7 km di tappa, 300 metri di dislevello del nostro tracciato, il meteo è un po' nuvoloso, ma non sta più bene. 5, 4, 3, 2, 1, via! 305 destra, in non tagliare 3 sinistra, stringe. 5 destra, in non tagliare 3 sinistra, stringe. 5, 4 destra, in tagliare 3 sinistra, in 2 destra, stringe. In 6 sinistra, in 6 destra lunga, apre 30, tieni la destra, in 2 sinistra, stringe. In 3 destra, in 5 sinistra, taglia poco. In 5 destra su crinale, imprime 5 sinistra su crinale, apre 50. 1, 2, 1, destra lunga, apre. In primo e 4 sinistra, apre e stringe 4 sinistra, molto lunga. 80. 2 destra, taglia poco, e 3 destra, taglia. 3 sinistra lunga, stringe, tieni la destra su 80 crinale. e piatto sinistra 150, 6 sinistra 50, 4 destra apre 6 molto lunga, stringi su crinale per la pole 4 sinistra molto lunga, apre 6, 60 piatto destra 50, 3 sinistra lunga, 5 destra lunga e corta 4 destra non mi raccomando un bel po' ragazzi 4 sinistra lunga, stringi 6 destra lunga su crinale, rallenta 30, 1 destra lunga, stringi e 3 sinistra lunga, apre 100 3 sinistra lunga, apre e stringi, in 5 destra 30 2 destra stringi 6 sinistra, in 5 destra taglia poco, 5 sinistra stringi 5 destra lunga, stretta 30 4 sinistra, apre 6, molto lunga, 30 5 destra su crinale e tieni la sinistra su 30 4 destra taglia poco 3 sinistra stringi, 100 6 destra, 150 6 destra, 30 non tagliare, 3 sinistra stringi 4 destra, molto lunga, apre, in 5 sinistra lunga 30, 3 destra lunga 4 sinistra, molto lunga, apre in 5 destra, molto lunga, apre, in 6 sinistra in 5 destra, molto lunga, apre, tieni il centro su 30 6 sinistra, in 5 sinistra, molto lunga, stringi, 100 4 destra, in 4 sinistra lunga, stringi, in 4 destra, 80 piatto destra su crinale, in 5 sinistra, 40 3 sinistra stringi in 3 destra, in 5 sinistra lunga 50, 6 sinistra, 30 3 destra stringi, apre, 6 lunga, 30 non ci posso credere, ce l'abbiamo fatta ragazzi abbiamo recuperato 8 secondi così dandogli 415, no vabbè, ce l'abbiamo fatta dovremmo essere sul podio, grande evento no vabbè, abbiamo fatto un recupero perfetto proprio eh, mi ero un po' incavolato sinceramente dopo quell'errore bene ragazzi, prima posizione, anche questa volta nonostante l'errore, niente, noi ci vediamo nel prossimo appuntamento ragazzi, mi raccomando, non mancate e ciao a tutti ragazzi